Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Georgia, più precisamente in una zona nord-est chiamata Morray County. In quest'area abitano circa 40.000 persone ed è un'area residenziale ma servita di tutti i comfort. Tra le varie cittadine che fanno parte di Morray County c'è anche Chatsworth, una cittadina di circa 500.000 abitanti. Tra le persone che vivevano lì, nel 2020 c'era anche un ragazzo di 28 anni di nome Kenneth Eugene Bunn. Tutti in realtà lo chiamavano solo Kenny, quindi anche io da qua in poi mi riferirò a lui come Kenny. Era nato il 14 giugno del 1992 e fin dalla nascita, fino a quando non era solo un neonato, aveva vissuto esclusivamente con sua nonna materna, una donna di nome Pat. Non si sa tantissimo delle motivazioni per cui i servizi sociali avranno affidato questo bambino alla nonna. L'unica cosa che sappiamo è che già in quei pochissimi mesi di vita che aveva aveva subito alcuni abusi. La madre biologica di Kenny era una donna di nome Trenna e in realtà era ancora relativamente presente nella sua vita, viveva anche lei a Chatsworth e lo vedeva di tanto in tanto. Crescendo Kenny era sempre stato accompagnato da una sensazione di essere diverso dagli altri. Diciamo che non rientrava nello standard tipico di adolescente che c'è in molti posti e in particolare in quella comunità perché a quanto letto quella zona è estremamente conservatrice. Cioè proprio come ideologia delle persone che ci vivono, quindi se è vero che è un po' di standard di stereotipo diciamo c'è in tutto il mondo, in quella zona in particolare tutto ciò che non rientrava nello standard, lo stereotipo tipico di un adolescente maschio era considerato tipo peccato una cosa del genere. E questa cosa era pesata davvero tantissimo a Kenny. In più da quando era piccolo era sempre stato un ragazzino abbastanza timido e introverso quindi non aveva mai avuto proprio la forza di reagire. C'erano solo tre cose che lo rendevano davvero felice ed erano tre passioni a cui Kenny teneva davvero tantissimo, ovvero la poesia, lo stile gotico e la musica dark wave. Il suo rapporto con Pat, con sua nonna, era davvero strettissimo. Kenny era sempre stato molto riconoscente a sua nonna per essersi occupata di lui totalmente e nonostante tutte le difficoltà non gli aveva mai fatto mancare davvero niente né a livello emotivo, affettivo né a livello economico. Avevano un legame così stretto che molto spesso Kenny le raccontava i suoi problemi, le sue esperienze in generale. In particolare aveva parlato con la nonna di depressione, insomma del suo stato mentale del momento. Per questo motivo Pat si allarmò immediatamente quando il 14 marzo del 2020 Kenny non tornò a casa. Non era inusuale che il ragazzo non dormisse a casa della nonna, che non tornasse la sera, però avvisava sempre. Quindi quando quella sera non arriva a casa senza fare una telefonata a sua nonna o mandarle un messaggio, la donna aveva capito fin da subito che doveva essere accaduto qualcosa di strano. Chiamò infatti la polizia, purtroppo la polizia le disse che Kenny in quanto uomo adulto aveva tutto il diritto di scomparire per qualche giorno senza dire niente a nessuno, che non potevano far niente per iniziare le sue ricerche. Ed effettivamente questa cosa fece tranquillizzare mediamente la nonna, disse che probabilmente la polizia insomma aveva ragione e che Kenny aveva semplicemente bisogno di un po' di tempo da solo, sapendo anche quello che stava affrontando. Passa però un giorno e il giorno dopo ancora Pat inizia a preoccuparsi perché ancora non aveva avuto notizie da sua nipote. Chiamò nuovamente la polizia per segnalare di nuovo la cosa e ancora una volta la polizia le disse che non poteva fare molto, che Kenny in quanto uomo adulto aveva tutto il diritto di non farsi più sentire. E dovette passare ancora un intero ulteriore giorno prima che le preoccupazioni di Pat vennero effettivamente validate. Il 16 marzo, verso le 4 del pomeriggio, arrivò una chiamata al 911. Dall'altro capo del telefono c'era un uomo che si trovava in una strada chiamata Carlton Petty Road. E' una strada che si trova a circa una ventina di minuti di macchina da Chatsward, la città dove abitava Kenny. E si trova in un'area verde, praticamente una sorta di parco, però molto grande, dove c'è un fiume, ci sono varie aree attrezzate, le persone, nonostante sia un'area abbastanza isolata, è una zona che viene spesso frequentata da persone che vanno a pescare, da persone che vanno a fare sport all'aperto, a fare kayak nel fiume. E infatti questa persona che stava chiamando si trovava su quella strada proprio perché si stava recando sulle sponde del fiume che si trovava in quell'area per pescare con alcuni amici. Mentre stava percorrendo questa strada aveva notato, in un lato un po' nascosto però ancora visibile, da dove si trovava lui, quella che gli era sembrata la carcassa di qualche animale. Si erano avvicinati e si erano resi conto che purtroppo di un animale non si trattava, ma era il corpo di un ragazzo. Chiaramente la polizia arrivò da lì a pochi minuti e fu subito chiaro a loro che probabilmente il corpo era arrivato lì, arrivando direttamente dal fiume, perché si trovava non proprio ancora nell'acqua, ma poco più su e quel fiume tipo subisce diverse variazioni di quantità di acqua a seconda della giornata. Quindi nonostante il corpo fosse asciutto, fosse tutto asciutto, la polizia pensò subito che probabilmente era arrivato lì ed era finito nell'acqua, magari diversi chilometri più a nord. La vittima aveva il volto completamente sporco di sangue. A prima vista sembrava che l'origine, diciamo, di quella fuoriuscita di sangue fosse una ferita alla testa, da come si poteva guardare così, non era ben chiaro da cosa fosse stata provocata, quindi bisognerà aspettare poi un'autopsia. Addosso non aveva nessun tipo di documento identificativo, non aveva un portafoglio, non aveva un cellulare, non aveva delle chiavi di casa, non aveva nessun indizio che potesse spiegare chi fosse o da dove fosse arrivato. Come vi dicevo, quell'area era comunque una zona frequentata, non di notte sicuramente, però di giorno, c'erano molte persone che andavano lì a passare la giornata all'aperto. E quel giorno stesso, il giorno in cui il corpo viene ritrovato, in realtà un sacco di persone erano, si trovano proprio in quel momento in varie parti del parco, quindi la polizia fin da subito ebbe un sacco di spunti, insomma, da cui iniziare le indagini, parlare con queste persone che si trovavano lì. In molti, moltissimi in realtà, decine di persone, segnalarono subito alla polizia di aver notato un uomo che in molti avevano definito sospetto. Sospetto non perché avesse qualcosa di strano in faccia o si comportasse in maniera strana, ma perché portava con sé una motosega, cosa che fece subito strano alla polizia perché il corpo non aveva nessun segno riconducibile a una motosega, quindi era strano che in qualche modo fosse collegato al caso. In ogni caso, giustamente, seguirono questa prima pista, riuscirono a identificare questo misterioso uomo con la motosega ed era lì per lavorare, cioè quella motosega gli era servita per potare alcuni alberi. Niente di sospetto, quindi, come già immaginavano i poliziotti, quindi questo uomo viene semplicemente tolto dalla lista dei sospettati. Nel frattempo a Chatsworth la notizia della scomparsa di Kenny inizia un po' a girare, raggiunge anche le orecchie, tra virgolette, di trenna della madre biologica di Kenny e nessuno fece il collegamento con questo ritrovamento a 20 minuti circa di distanza da lì se non un amico di Kenny che al telegiornale sentì proprio questa notizia di questo ragazzo che era stato trovato in quel punto e che nessuno aveva idea, insomma, di chi potesse essere. Quindi questa persona conosceva trenna, la mamma di Kenny, decise di mandarle un messaggio, di dirle non so se hai sentito ma Kenny è scomparso e hanno trovato questo corpo a 20 minuti da qui. E trenna per qualche motivo ebbe immediatamente la sensazione che quel corpo trovato lì fosse effettivamente suo figlio. Trenna contattò Pat, sua madre, le disse che era stato trovato un corpo, anche Pat ebbe da subito la stessa sensazione di trenna, quindi insieme contattarono di nuovo la polizia per chiedere che venisse fatta una comparazione di DNA. Prima ancora di fare un'analisi, la polizia chiese a Pat se Kenny indossasse degli occhiali da vista neri e lei rispose di sì, gliele aveva comprati lei poco prima, alcuni mesi prima. Quindi ovviamente l'identità di Kenny viene ufficialmente poi confermata da un'autopsia, ma da quel dettaglio furono tutti abbastanza certi che si trattava di lui. Dall'autopsia venne fuori che quel trauma che aveva alla testa in realtà era stato causato da un proiettile. Dall'autopsia e anche dal fatto che sentirono alcune persone che vivevano non proprio in quell'area, ma lì vicino e che confermeranno di aver sentito un colpo di pistola la notte del 15 marzo, riuscirono ad isolare l'orario in cui presumibilmente Kenny doveva essere morto intorno alle 21, 21 e 30. La polizia chiese alla nonna di Kenny, a Pat, se sapesse di qualcuno che per qualche motivo poteva aver voluto fare al ragazzo una cosa del genere. A Pat non viene in mente assolutamente nessuno, disse che, come vi ho già detto in realtà prima, Kenny era una persona molto timida, introversa, non era di certo la persona che andava a litigare con persone o ad aver problemi con qualcuno di pericoloso. Le chiesero anche se magari avesse avuto qualche fidanzata, qualche ex gelosa, che poteva averle voluto qualcosa del genere. E lei disse che l'unica relazione di cui sapeva, di cui era conoscenza, che aveva avuto Kenny, era stata con una ragazza, ma si erano lasciati diversi mesi prima. Questa ragazza aveva 20 anni e si chiamava Nadia Swartz. Non era stata una relazione molto lunga, era durata proprio una manciata di mesi e stando ovviamente a quello che disse Pat alla polizia, non aveva funzionato perché Nadia era ancora molto immatura, non era pronta, diciamo, a una vera e propria relazione seria, mentre Kenny si era praticamente innamorato di lei, quindi c'era questa non compatibilità di cosa volevano l'uno dall'altra. Poco dopo la fine di questa relazione, Nadia aveva conosciuto un altro ragazzo, un ragazzo di nome Justin Hooker, e insomma aveva iniziato a frequentarsi. Questa cosa aveva fatto male, tra virgolette, a Kenny, che ancora non aveva superato la rottura, quindi vedere che Nadia si fosse già fatta un'altra vita, insomma un'altra relazione con un'altra persona, lo aveva chiaramente abbastanza distrutto emotivamente. In ogni caso non sembrava una situazione che potesse essere degenerata in qualcosa di così grave, non lo sembrava né agli occhi della polizia né agli occhi di Pat, della nonna che comunque aveva vissuto, tra virgolette, questa situazione. Quindi decisero di non considerarla ovviamente un'eventuale sospettata, scelsero semplicemente di interrogarla per sentire se magari Nadia sapesse qualcosa in più, magari Kenny si era iniziato a frequentarsi con qualcun'altra, o magari si fosse infilato in qualche casino, magari lei poteva saperlo. A questo interrogatorio Nadia si presentò con sua madre. Disse alla polizia che lei e Kenny erano rimasti in buoni rapporti, continuavano comunque a parlarsi e a vedersi anche dopo la fine della loro relazione. Disse anzi che la sera stessa della scomparsa di Kenny, loro due si erano visti. Kenny le aveva chiesto di vedersi per parlare della fine della loro relazione. Nadia direi infatti alla polizia confermerà un po' in realtà quello che aveva già detto la nonna, ovvero che interrompere i rapporti era stata lei perché lui voleva una relazione seria mentre lei ancora non si sentiva pronta. In ogni caso Kenny le aveva chiesto di parlare della relazione, lei aveva accettato ed era andata a prenderlo in macchina. Si erano spostati un po' e si erano poi fermati ad una pompa di benzina. Avevano parlato per alcuni minuti, Kenny di fatto voleva convincerla a tornare di nuovo con lui, lei non voleva, si erano un po' arrabbiati rispettivamente l'uno con l'altra. Dopodiché Kenny le aveva chiesto se voleva andare con lui a casa di un amico, lei si era ulteriormente arrabbiata, avevano litigato, lei lo aveva fatto scendere e se n'era andata. Dopodiché, dopo questo momento, lei non l'aveva né più visto né più sentito al telefono e non sapeva chi fosse questo amico da cui doveva andare. Le chiesero se sapesse di qualcuno con cui magari in quel periodo aveva problemi, se aveva litigato con qualcuno, se aveva iniziato a frequentare qualcun altro. Nadia non sapeva se avesse iniziato a frequentare qualcun altro, ma disse che secondo lei c'erano diverse persone che avrebbero potuto fare una cosa del genere. Darà una lista di quattro nomi che non sappiamo ovviamente perché la polizia andò a parlare con ognuno di queste persone e non trovarono assolutamente niente che potesse collegare anche solo una di loro a quello che era accaduto a Kenny. Per qualche motivo però ai poliziotti rimase una sensazione su Nadia, ovvero che non avesse raccontato tutto, che stesse comunque nascondendo qualcosa. Quindi decisero di chiamarla per un secondo interrogatorio. E effettivamente a questo giro di interrogatorio Nadia si aprì decisamente di più. Raccontò alla polizia che la breve relazione che aveva avuto con Kenny era stata a tratti davvero spaventosa. Descrive Kenny come una persona instabile e racconta un paio di situazioni dove Kenny ha fatto delle minacce o comunque ha avuto dei comportamenti aggressivi nei suoi confronti. In un caso in particolare lui si trovava a casa di lei, lei aveva un cagnolino e si erano messi a litigare. Questo litigio era finito con lui che aveva preso un coltello, l'aveva puntato alla gola del cane e aveva detto a Nadia che se lei lo avesse lasciato avrebbe ucciso il suo cane. In un'altra situazione ancora, proprio a ridosso della poi fine della loro storia, Nadia aveva cercato appunto di lasciarlo e lui le aveva detto che l'avrebbe uccisa se lo avesse fatto. Ora ci tengo a precisare che di queste cose che lei raccontò alla polizia non c'era nessuna prova. Non c'erano dei messaggi dove Kenny era stato aggressivo verbalmente con lei o dove le avesse fatto delle minacce di qualche tipo. In ogni caso, a parte queste cose qua, nemmeno da questo interrogatorio uscì fuori niente di effettivamente utile per le indagini. Dovettero aspettare ancora qualche giorno fino al 19 marzo, quando un avvocato, chiamo la polizia, l'avvocato contattava la polizia per conto del suo cliente. E quando a fare questa cosa è un avvocato, c'è sempre di mezzo qualcosa. Cioè nel senso, il motivo per cui probabilmente queste persone non chiamano direttamente la polizia è perché magari sono in una posizione scomoda, magari insomma hanno bisogno che quello che venga fuori sia controllato da un avvocato che sa cosa dire e cosa non dire. E infatti il cliente di questo avvocato era un certo Kevin Pintor, che diciamo che non era proprio un onesto cittadino. Per vivere Kevin vendeva illegalmente armi, pistole di vario tipo. E se in America ovviamente le armi, come sapete, sono abbastanza accessibili, non è molto difficile procurarsi un'arma per vie legali, chi lo fa illegalmente chiaramente deve nascondere qualcosa o non può averle per un motivo legale, magari sono degli ex detenuti o sono in libertà condizionale, oppure quelle stesse armi servono per fare delle cose illegali, rapine, eccetera, eccetera. In ogni caso questo Kevin aveva fatto contattare la polizia dal suo avvocato perché aveva venduto di recente un'arma e aveva paura che quell'arma fosse stata utilizzata per qualcosa di illegale, di criminale. Cosa che è un pochino una sorpresa perché se vendi armi illegalmente, come vi dicevo prima, uno non è che compra illegalmente un'arma per non farci niente, voglio dire. Il motivo per cui la gente compra le armi così è che non sono tracciabili, non c'è un registro dove c'è scritto quest'arma appartiene a Elisa Capano, per dire. Quindi per carità, ammirevole il fatto che questo Kevin abbia denunciato questa cosa alla polizia, ma mi fa un po' ridere la sua preoccupazione, cioè cosa cambia da tutte le altre situazioni. In ogni caso Kevin aveva paura che magari quest'arma fosse stata utilizzata per qualcosa di illegale e che poi venisse di fatto ricondotta a lui, ingiustamente. A questo punto la polizia ovviamente lo interroga e gli chiede i nomi della persona a cui aveva venduto questa pistola. Lui inizialmente non vuole dirlo, poi voleva una sorta di batteggiamento, cioè di firmare una sorta di immunità per in cambio insomma di dire questo nome. Insomma alla fine riescono a convincerlo, a tirare fuori un nome e un cognome e questo nome e cognome era Justin Hooker, che se vi ricordate altri non era se non il nuovo fidanzato di Nadia. Cosa ovviamente allarmante per quello che era successo a Kenny, chiedono a Kevin la tipologia dell'arma che aveva venduto a Justin ed effettivamente era la stessa tipologia di arma che aveva sparato il proiettile che aveva colpito Kenny. E sempre guarda caso, ulteriore coincidenza, Kevin aveva venduto questa pistola a Justin proprio due giorni prima rispetto all'omicidio. Ovviamente il passo dopo fu quello di rintracciare Justin, portarlo in centrale e interrogarlo. Gli chiedono dove fosse finita quella pistola perché avevano comunque, era la stessa tipologia di pistola ma avevano bisogno di analizzarla per confermare che quel proiettile appartenesse proprio a quella pistola. Guarda caso lui dice di averla rivenduta proprio da pochissimo tempo a un suo amico. Quando gli chiedono nome e cognome di questo amico non se lo ricorda. E a questo punto parliamo di giorni di distanza, cioè non è che gli si chiedeva di ricordarsi un nome di una persona a cui aveva venduto sta pistola dieci anni prima, erano letteralmente due o tre giorni prima. Gli chiedono inoltre come mai avesse acquistato quella pistola da Kevin, quale fosse il motivo, lui disse semplicemente per autodifesa. A questo punto Justin, che evidentemente capisce che la sua situazione a livello legale non era proprio delle migliori, chiede un avvocato e da qua in poi praticamente non parlerà più. Quindi l'unica chance che hanno a questo punto, dato che Justin si rifiuta di parlare, è Nadia. Inizia quindi il terzo interrogatorio a questa ragazza. A questo punto anche lei si presenta con un avvocato. Insomma, iniziano a pressarla in vario modo per cercare di tirarle fuori qualcosa. Finalmente qualcosa Nadia inizia a raccontare. La ragazza ammette che il giorno in cui Kenny era scomparso, il giorno in cui si erano visti, insomma, che Kenny aveva chiesto a lei di parlare, in realtà in auto, nascosto nel sedile del passeggero dietro, c'era anche Justin. Stando a quanto aveva detto alla polizia, aveva chiesto lei stessa a Justin di nascondersi lì perché aveva paura della reazione di Kenny. Come vi dicevo, insomma, tutte quelle cose che aveva raccontato, il fatto che Kenny era stato diverse volte molto aggressivo con lei. Si erano in realtà fermati poco prima del ponte, quel ponte di cui vi parlavo prima, che era vicino, un po' prima, un po' più a nord, del punto in cui avevano poi trovato Kenny. E quel ponte passava proprio sopra quel fiume di cui sempre parlavamo prima. Avevano iniziato a litigare, lei aveva fermato la macchina ed era scesa, si era allontanata da Kenny. Kenny l'aveva seguita. Aveva iniziato a dirle che se non si fosse rimessa con lui, lui l'avrebbe uccisa. Aveva poi cercato di aggredirla, lei aveva preso la pistola, quella che in realtà aveva comprato Justin, e aveva sparato a Kenny. Dirà Nadia di essere responsabile al 100% di quello che era accaduto, che Justin era lì solo per protezione, e che l'aveva semplicemente poi aiutata a buttare Kenny nel fiume, e insomma non aveva più detto niente alla polizia. Il fatto è che la polizia non le crede. Innanzitutto non crede che sia stata lei a premere il grilletto, crede che l'abbia fatto Justin, e credono che la cosa sia in realtà stata progettata, pianificata, che non sia stato il momento dell'autodifesa, eccetera. Quello che a questo punto crede la polizia è che Nadia l'abbia convinto, insomma, a venire con lei, l'abbia portato in quel punto apposta, l'abbia fatto uscire dalla macchina e l'abbia fatto rivolgere verso di lei, in modo che Justin, uscendo dal nascondiglio in cui si trovava, insomma, fino a quel punto, gli avesse di fatto sparato da dietro. In più, non ci sono davvero prove né messaggi né di persone che hanno assistito a nessun tipo di prova di qualsiasi tipo, che Kenny sia mai stato violento nei suoi confronti, o che l'abbia anche solo semplicemente minacciata verbalmente o per messaggio. Insomma, il grosso delle cose che sta raccontando Nadia non sembrano tornare tanto. Quindi cosa fanno? La lasciano in questa sala dell'interrogatorio e fanno entrare la madre. Ovviamente, come in tutte le sale dell'interrogatorio, quell'interazione, quel discorso tra madre e figlia viene registrata, anche se non c'era nessuno lì con loro. In effetti, Nadia, a sua madre, dice che in realtà è successo qualcosa tra Justin e Kenny. Alla madre disse una versione ben diversa. Disse che quel giorno era stato Justin a chiederle, insomma, di andare a prendere Kenny, eccetera. Per il primo pezzo dell'appuntamento, tra virgolette, Justin era rimasto nascosto nei posti del passeggero della macchina. Poi, a un certo punto, si era palesato. Aveva tirato fuori una pistola, aveva detto a Kenny di scendere e si trovavano proprio nei pressi di quel famoso ponte. Dopodiché, tutto quello che sapeva Nadia e che per diversi minuti non li aveva più visti, aveva sentito uno sparo e dopo ancora alcuni minuti era tornato solo Justin. Non avevano in realtà parlato di quello che era successo, ma Justin si era scusato con lei. Quindi, nonostante questa confessione non volontaria, ovviamente si trattava di una confessione, era tutto registrato. Quindi, parlarono con Justin, gli dissero quello che aveva detto Nadia e a questo punto Justin effettivamente confessa. Dice che aveva fatto tutto per proteggere Nadia. Perché Nadia gli aveva raccontato diverse volte che Kenny era stato molto violento, che l'aveva minacciata diverse volte. Insomma, l'aveva fatto per proteggere Nadia. In nessun caso, né lei né lui, hanno mai mostrato nessun tipo di rimorso. Quello che pensa la polizia, cioè pensano che la verità sia effettivamente che Justin abbia fatto il tutto, ma pensano che Nadia sia stata effettivamente un po' la progettatrice di tutto. Pensano che quelle cose, delle violenze eccetera, che aveva raccontato a Justin, se le fosse inventate appositamente per far fare questa cosa a Justin. Il problema a questo punto è stato che la pistola non è mai stata ritrovata. Quindi non sono stati in grado effettivamente di provare chi avesse premuto di fatto il grilletto, cioè chi avesse in mano quella pistola. Fatto sta che tutto questo di cui vi ho parlato fino adesso, tutte le prove, le confessioni eccetera, nel marzo del 2021 vengono portate a processo. E evidentemente la giuria reputò entrambi responsabili allo stesso modo, anche se a questo punto non sono mai riusciti a trovare le prove effettive che a premere il grilletto sia stato l'uno o l'altra. Infatti condannarono tutte e due all'ergastolo con un minimo di pena da scontare di 30 anni prima di poter richiedere la libertà vigilata. Una cosa che ho letto che mi fa venire la pelle d'oca è che in diverse interviste Nadia ha detto che trovava molto romantico il gesto che aveva fatto Justin, cioè secondo lei il fatto che Justin avesse ucciso per lei era una cosa romantica. Ho letto così, non so neanche giustificarlo a parole sinceramente, questo è quello che ha detto questa ragazza. Anche dopo la condanna nessuno dei due ha mai espresso il più piccolo senso di rimorso nei confronti di Kenny. Justin sembra molto orgoglioso di quello che ha fatto e come vi dicevo, secondo Nadia si è trattato di un gesto molto romantico. Questo è tutto quello che ho trovato del caso di oggi, come al solito fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, come al solito se volete sostenermi potete iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace, seguirmi sulle varie piattaforme, mi trovate su Instagram e su TikTok. Vi ricordo tra l'altro che giovedì è uscita la terza puntata, il terzo episodio del mio podcast che si chiama Red Room, podcast in cui c'è anche il nostro caro Andrew Files. In descrizione trovate tutti i link come al solito per raggiungere sia il video podcast, il video su YouTube oppure anche sulle varie piattaforme di ascolto tipo Spotify. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video. Grazie a tutti.